salve a tutti video molto breve per dimostrare che windows 11 non è altro che un windows 10 moddato allora questo è un portatile con installato windows 10 home andiamo su questo pc per vedere la versione andiamo su proprietà proprietà di questo pc ed eccola qui proprietà andiamo sulle informazioni di windows e vediamo che c'è scritto windows 10 home sempre sullo stesso pc andiamo ed eseguiamo il comando cmd il prompt dei comandi ed andiamo ad eseguirlo come amministratore esegui come amministratore ok gli diciamo di sicchio siamo sicuri che vogliamo eseguirlo come amministratore si aprirà il prompt dei comandi al prompt dei comandi lo rimpiccioliamo leggermente così da far vedere che sotto c'è sempre windows 10 home vedete andiamo a scrivere il comando ver ed ecco che ci dice microsoft windows versione 10 0 19 0 45 28 46 ci spostiamo su quest'altro pc dove c'è installato windows 11 per vedere che sia realmente windows 11 noi andiamo in basso col pulsante destro andiamo sul sistema sistema e il sistema ci aprirà una schermata con scritto windows 11 pro 22 h2 tra l'altro vedete versione 22 h2 anche qui 22 h2 windows 10 home 22 h2 che è quello che mi ha fatto capire questa cosa andiamo sempre su questo windows 11 pro stiamo sul pc con windows 11 pro scriviamo cmd anche qui cmd e andiamo sul prompt dei comandi pulsante destro esegui come amministratore e gli diciamo sì eccoci qua abbiamo il prompt dei comandi mettiamolo proprio sopra alla scritta windows 11 pro così si legge che windows 11 pro scriviamo lo stesso comando ver diamo invio esce scritto windows microsoft windows 10 0 2 2 6 2 1 1 5 5 5 5 ed ecco perché windows 11 pro non è altro che windows 10 rimoddato grazie di aver visto questo video iscrivetevi al mio canale youtube e attivate la campanella ciao a tutti